Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della terza parte delle impostazioni, ovvero le impostazioni delle fonti. Prima di tutto bisogna dire che tutte le fonti, video e audio, devono essere collegate prima di aprire OBS, perché OBS intercetta tutto quello che è già collegato e non sembra, a mio avviso, che controlli in real time le fonti che uno aggiunge e quindi non riesce a vedere tutto, quindi ho collegato una videocamera in più, ok OBS non la vede perché devo chiudere OBS e riaprirlo, allora le vede. Quindi questo è il modo di lavorare. E anche quando uno ha già fatto una configurazione con una videocamera esterna, un audio esterno, un mixer esterno e ha già tutto impostato e poi magari stacca tutti i cavi, non deve aprire prima OBS e poi attaccare le fonti. Deve attaccare tutte le fonti, poi aprire OBS e OBS le rivedrà naturalmente come se non fosse mai cambiato niente. Altrimenti tutta l'impostazione fatta prima va un po' in palla e bisogna comunque riconfigurarla tutta perché non avendo trovato la fonte, quando si chiude e si apre OBS, quella fonte non è comunque reimpostata sulla lista delle fonti correttamente. Bisogna cliccarci e selezionarla. Adesso io ho creato uno screenshot con una fotocamera abbastanza veloce. Questa è la lista delle fonti che ci sono in OBS. Quello che ci interessa è vedere solo i nomi. Allora, non vedere effettivamente OBS. Allora diciamo che partendo da sinistra in OBS c'è la sezione scene che vedremo nel prossimo video. La sezione intermedia dopo le scene è fonti e poi c'è mixer. Noi adesso ci impegniamo a parlare di fonti. E una delle fonti che si può utilizzare è cattura alla finestra. Cioè potrei aprirmi il singolo Firefox e catturare la finestra di Firefox. In modo da non vedere tutto il desktop ma solo il programma che mi interessa. Poi c'è cattura schermo che è infatti tutto il desktop. E quindi posso scegliere cattura il desktop 2 e quindi cattura il desktop 2. Allora la differenza tra cattura schermo e cattura la finestra la si può vedere in questo modo qui. Adesso che io ho rimpicciolito, io sto catturando tutto lo schermo perché vedete anche lo sfondo del desktop. Se avessi catturato la finestra avreste visto solo la finestra e non quello che c'è attorno. Questa è una cosa abbastanza importante a capire. Poi il dispositivo di acquisizione video è di solito la videocamera integrata, la webcam integrata nel portatile. O la webcam che attaccate con l'USB su un PC fisso. È possibile comunque acquisire anche da videocamere professionali. Io l'ho fatto e adesso vi spiego velocemente come. La videocamera ha la presa in uscita mini HDMI e gli collego un cavo di conversione mini HDMI a HDMI. Poi col cavo in HDMI arrivo vicino al PC. Sul PC ho messo una scatoletta di acquisizione che in ingresso entra HDMI. In uscita esce USB 3, attacco al PC l'USB 3 e OBS Studio riesce a vedere questa fonte sia come video che come audio. Non ho mai registrato l'audio dalla videocamera perché la videocamera sta là, lontana, che li prende me che sono qui. Io di solito voglio l'audio che sia bello che senta qui. Quindi ho il microfono che può attaccare vicinissimo a questo qui, che uso come fonte audio per registrare. Quindi di solito non usate mai la videocamera come audio a meno che non sia professionale, non abbia un cavo per portare un microfono vicino al relatore o che non sia troppo distante dal relatore e allora si riesca a sentire bene. Si possono importare anche immagini per metterle come immagini di sfondo. Volendo io potrei cercare in internet un'immagine simile alla mitica libreria di Montemagno, mettermela sotto come sfondo e riuscire a riprendermi e fare sembrare che io abbia dietro di me una libreria che sia un forte lettore che lega miliardi di libri al giorno. Ma posso fare tutto quello che voglio con OBS Studio. Poi posso fare varie tipologie di acquisizione audio, ma non lo mal gestite da qui perché lo sempre gestite dalla sezione Mixer. Poi posso utilizzare anche un'origine multimediale, cioè mettere un video di sfondo che voglio far credere che sia un posto al mare. Posso avere un video dove dietro c'è una finestra, o meglio usare un video da metterlo dietro come sfondo. E avere una finestra e il mare, vedere le onde del mare che si muovono, i gabbiani che volano, così sembra di essere dal vivo al mare a Miami, invece sono solamente a Treviso o in mezzo alla nebbia. Ok, questo si può fare. Poi, anche presentazione, immagini, c'è una cartella dove ci sono un tot di immagini e cambiano ogni tot tempo prestabilito. Oppure una scena, ma vi spiegherò dopo cosa sono le scene nei prossimi video, quindi ne parleremo dopo. Oppure si può scrivere del testo, questo è importante. Allora, tutte queste fonti video vengono gestite come se fossero dei livelli, perché nel video che state vedendo c'è la fonte primaria che ho usato, che è il desktop, che è sotto, che lo vedete qua, è tutto sotto questo. Poi vedete qua, nella parte sopra, qui, che c'è la webcam integrata del mio portatile. Infatti il mouse adesso sta sul desktop, vado un po' più sopra nella parte dove ci dovrebbe essere la webcam e sparisce il mouse perché la webcam è messa sopra. Allora, questa cosa qui funziona più o meno come i vari livelli dei software di grafica che si lavora a livelli e si ha un oggetto sopra un altro. Allora, volendo anche in tempo reale si possono spostare gli oggetti, cioè le varie fonti. Facciamo un esempio semplicissimo. A me è capitato di avere delle slide degli relatori che si vedevano nella parte sotto, però in questo pezzettino qui, che dove c'è adesso la webcam integrata, c'era parte del titolo, parte del testo. Allora, prendevo la webcam in tempo reale, la spostavo più o meno nell'angolo, anche facendola uscire fuori e non facendo vedere tutto il rettangolone, in modo da far leggere il più possibile la slide del relatore. Allora, questo è un consiglio. Se voi siete relatori e sapete che c'è gente che registra con OBS, potete pensare di lasciare un bel bordo ai lati, in modo che la webcam non dia problemi nella visione delle vostre slide, perché altrimenti il vostro video che verrà fatto sarà di qualità un po' scarsa, perché il tecnico che dovrà fare in tempo reale la gestione del video, dovrà spostare a manina il video della webcam, e non vi farà venire un video fighissimo. Quindi, voi relatori dovreste dare una mano a chi fa la composizione del video in tempo reale con OBS. Per questo video per me è tutto. Vi ricordo che nel prossimo parleremo un po' più approfonditamente delle fonti e anche delle scene.